Salve, salve da Marco Calabro per Conto Dico Credit. Stiamo vedendo oggi un'offerta di due occhiali da sole destinati a due momenti differenti della giornata. Abbiamo infatti degli occhiali da sole che normalmente sono anche occhiali da look e che normalmente si utilizzano nelle ore della mattina e poi nelle ore del pomeriggio e poi invece degli occhiali destinati alle ore più calde, più luminose della giornata. Vediamo questa offerta che è realizzata con degli occhiali da sole di Milano Living e con degli occhiali da sole di Missoni. Vediamo questo è l'astuccio della Milano Living che può essere di vari colori e ha questa forma triangolare con una chiusura magnetica, mentre quest'altro astuccio è quello della Missoni che invece ha una chiusura a click. Andiamo a vedere gli occhiali, questo qua è l'occhiale da sole della Milano Living che è destinato alle, è l'occhiale da look come vediamo, è destinato alle ore della mattina e alle ore del pomeriggio. Questo è un occhiale, vediamo all'interno che c'è scritto categoria 3 perché è un occhiale che è anche indicato per essere utilizzato quando si conduce un veicolo. Vediamo che è un prodotto con un design abbastanza classico se non per il fatto che ha questo effetto laccato veramente molto gradevole e vediamo che la stanghetta è piuttosto spessa, vediamo che va a allargarsi per poi richiudersi nel momento in cui vi è la posizione per il nostro orecchio. Andiamo a mettere questi occhiali da sole nella macchina per la protezione dei raggi ultravioletti solari e vediamo che hanno una protezione V400 quindi proteggono completamente dai raggi ultravioletti solari. Questi sono gli occhiali da sole della Milano Living. Andiamo a vedere invece adesso gli occhiali da sole della Missoni, vediamo che si contraddistinguono per un effetto più classicheggiante ed è questo effetto madreperlato che li rende particolarmente gradevoli. Il ponte vediamo che è metallico ma è coperto con una struttura plastica a effetto laccato. La stanghetta laterale anche in questo caso si tratta di una cerniera metallica come gli altri che comunque hanno la cerniera metallica che è stata laccata ed quindi un effetto blu su blu mentre su questi qua vediamo che è la cerniera metallica, vediamo l'effetto metallico. Vediamo la stanghetta che è realizzata con due elementi e la parte finale vediamo in questo materiale plastico madreperlato che è estremamente gradevole. In questo caso non vi è la scritta interna categoria 3 che è quella che contraddistingue gli occhiali da sole che possono essere utilizzati quando si conduce un veicolo. Andiamo a vedere anche questi occhiali da sole hanno una protezione UV 400 dai raggi ultravioletti solari però come dicevamo sono degli occhiali destinati più alle ore calde della giornata quindi diciamo alle ore con maggiore luminosità. Il valore di questi occhiali da sole è di in questo caso di 139 euro lo vediamo qua dall'etichetta 139 euro questi di Milano Living 139 euro e invece nel caso degli occhiali da sole dalla Missoni hanno un valore di retail di 150 euro ecco qua quindi sono 289 euro però l'offerta di co-credit è per entrambi gli occhiali a 149 euro però attenzione stavamo parlando di co-credit metà prezzo che cosa significa che voi dovrete pagare subito la metà degli occhiali quindi 74 euro e 50 a cui dovrete aggiungere 8 euro di spese di spedizione mentre la seconda metà del valore dovrete pagarlo dopo un anno o comunque avrete la possibilità di pagarlo entro il limite di un anno perché voi entro un anno potete anche decidere di rendere gli occhiali da sole per permutarli con degli altri occhiali da sole dove verrà evidentemente applicato il valore residuo degli occhiali da sole che state rendendo in questa maniera voi avete praticamente la grossa grossa comodità di poter decidere dopo entro un anno se se volete cambiare gli occhiali al termine dell'anno se decidete di tenere gli occhiali al sole avrete maniera di pagare praticamente la seconda metà degli occhiali bene grazie grazie sempre per ascoltare con credito e rivederci al prossimo video